Disposta la rimozione del salottino scoperto da Augusto De Sanctis durante un monitoraggio del fratino nel parco delle Dunia d'Ortona, a disporla la procura di Chieti dopo l'esposto della stazione ornitologica abruzzese, il salottino era stato realizzato sbancando parte di una duna. Dopo la segnalazione della SOA si è svolto un sopralluogo di comune capitaneria durante il quale sono state accertate le criticità segnalate chiedendo istruzioni alla procura teatina. La stessa, commenta SOA, ha giustamente optato per l'immediata rimozione dei manufatti al posto del loro sequestro che avrebbe allungato a dismisura i tempi del ripristino. Ora Ecolan, la ditta che si occupa dello smaltimento per conto del comune, avrà tre giorni di tempo per rimuovere i materiali accumulati. Per una segnalazione che pare andare a buon fine, sembra invece non risolversi la questione della tutela dei nidi di fratino nello stesso tratto di litorale. Finora ad Ortona sono stati rinvenuti e segnalati immediatamente agli enti con PEC coordinate geografiche otto nidi di cui sette trovati da SOA. Ma ad oggi nessun nido è delimitato nonostante siano posti in area a fortissimo rischio calpestio e disturbo.